Ciao a tutti, è un gran piacere per me essere qui, sono Clarissa Leone, attrice, ed è un grande onore incontrare delle persone, insomma dei talenti come tutti coloro che lavorano in Video Omnia, che da una idea semplicissima, chiaramente un'idea vincente, riescono a creare tutto ciò che è possibile creare nel cinema a prezzi davvero contenuti. Questa grande società Video Omnia, che è sul mercato ormai da più di 30 anni, cerca dei talenti che siano in grado appunto di avere una buona idea vincente e sinergicamente lavorare insieme per entrare appunto nel mondo del cinema, quindi con film, progetti importanti. Io davvero consiglio a tutti di sentire e di provare Video Omnia, ve lo consiglio, sono sul web, quindi sui social, Facebook, Instagram e hanno chiaramente un sito internet che vedete in sovraimpressione, ve lo consiglio vivamente. Un saluto a tutti i follower di Video Omnia.